Sindaco Calabrese, l'interdizione nell'area dell'ospedale è stata un po' accolta da chi deve controllare, per lei e per i giornalisti, ma la risonanza magnetica ancora non funziona ed è venuto fuori che quella famosa convenzione, quello schema col gom per il personale, ancora il gom non sa ufficialmente nulla. Sì, questo dispiace, ritengo l'interdizione all'ospedale sia stata uno scherzo di carnevale, immagino una parte del dottore Fortunio perché non ci spiega diversamente, perché è veramente una cosa ridicola, ci scherziamo sopra, anche se è un atteggiamento grave e con atti formali si possa interdire l'accesso ai ministratori locali e ai giornalisti in una struttura pubblica, è veramente una cosa di pessimo gusto. La preoccupazione riguarda la risonanza che da anni abbiamo chiesto e ottenuto, già quando c'era l'ingegnere scuro si parlava di questa risonanza, finalmente è arrivata, non l'abbiamo condiviso, non l'ho condiviso, ma riportando ritengo il sentimento di tutti i cittadini di questo territorio e quella passarella che c'è stata con Spirlì, Meloni, Fortunio ebrei, per annunciare in pompa magna un risultato che dovrebbe essere una cosa normalissima. Tra l'altro una risonanza che non può funzionare ad oggi per mancanza dei medici, degli operatori. Ci è stato detto che faremo delle convenzioni con l'Università di Messina, con il Policlinico di Messina e con il Gomma di Reggio Calabria. Sono state pubblicate queste convenzioni che hanno un costo di 104 mila euro con il Policlinico di Messina, 78 mila euro con il Gomma di Reggio Calabria. Abbiamo scoperto poi, andando a fondo, che il Gomma di Reggio Calabria, come ha formalmente scritto, non disconoscono questa convenzione, hanno fatto un atto formale dicendo che abbiamo preso dalla stampa che c'è una convenzione con noi, ma noi non ne sappiamo nulla. Dicci cosa sia tra l'altro, dicci come possiamo collaborare. Una convenzione che parla però di accordo fra le parti, di importi, di disponibilità, di accessi all'ospedale dei luoghi, sinceramente è una cosa un pochino anomala, che ci fa ulteriormente dispiacere, arrabbiare, indignare. Noi non chiediamo passarelle, l'abbiamo detto da anni, chiediamo risposte per i nostri cittadini, chiediamo soluzioni nella sanità pubblica ospedale e in quella territoriale. Cosa che però non avviene, non avviene da anni, non è venuta con chi ha apprezzato i commissari, non è venuta con i commissari che rappresentano un fallimento da tutti i punti di vista, perché non ci sono nuovi servizi erogati, non c'è stata trasparenza in questi anni, eppure una commissione che doveva risolvere i problemi delle infiltrazioni mafiose, non è stata trovata nessuna soluzione dal punto di vista finanziario. Quindi per noi, abbiamo anche detto come conferenza permanente dei sindaci, come invitato, sicuramente un fallimento. Noi spieghiamo che questa risonanza possa funzionare, noi lo vogliamo, lo pretendiamo, non può rimanere lì questo strumento. Tra l'altro si è messo in fretta e fuga, in una soluzione che secondo noi non va bene, perché è una struttura quasi esterna all'ospedale. Adesso ha fatto un corridoio, un serpentone, un tunnel, non si capisce come i pazienti debbono arrivare all'interno dell'ospedale, all'interno dei reparti. Hanno avuto fretta, perché dovevano farla sicuramente, perché i commissari, per fortuna dico io, andranno via nelle prossime giorni, rimane questa risonanza, ma bisogna adesso farla funzionare. Pensare di far funzionare uno strumento del genere solamente con delle convenzioni, di cui uno è una bufala ed è stato accertato che è una bufala, l'altro non sappiamo, lo andremo a verificare, è una cosa che non va assolutamente bene. Bisogna avere rispetto per i cittadini della Logride, bisogna portare delle soluzioni, non bisogna fare delle cose che non servono. Abbiamo visto tante cose che non servono in questi anni, non ne vogliamo altre. Noi continuiamo a combattere, portare avanti questa battaglia, che non è una battaglia politica, ma è una battaglia di civiltà per i cittadini di questo territorio. Riteniamo che oggi chi governa l'ospedale non è in grado di governarlo bene, non è in grado di gestire la sanità pubblica. Non abbiamo visto risultati in questi anni. Serve veramente una rivoluzione nel settore della sanità, che deve partire proprio dalla città di Loghi, dove da anni continuiamo a rivendicare il diritto di avere un ospedale funzionante, di avere una sanità territoriale funzionante, il rispetto e l'applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, che sono tutti bravi a parola a dire che esiste, però nessuno lo applica, nessuno ci garantisce i servizi e l'abbiamo visto anche quello che è successo con la pandemia, dove c'è stata improvvisazione su tantissime cose, l'abbiamo visto sui tamponi, lo stiamo vedendo sui vaccini. Ieri hanno accolto la proposta del Comune di Loghi, del Comune di Antonimina, di fare un centro vaccinale all'Antonimina, fra qualche ora avremo il sopralluogo al nostro stabilimento termale, che è già attrezzato per poter erogare servizi ai cittadini, auspichiamo che la cosa possa andare in porto, però formalmente è certo che l'ho detto che va bene la nostra proposta. Noi siamo disponibili ad andare incontro a tutte le scuole che sono le esigenze dell'ASP, dal punto di vista organizzativo e logistico, perché noi vogliamo che la cosa che ci preme di più è tutelare la salute dei nostri cittadini, dei cittadini di Loghi e della Loghi. Quindi gli amministratori locali, i sindaci, sono disponibili a confrontarsi con l'ASP e risolvere queste problematiche, ma non si può pensare di risolvere le problematiche, se non si è incapaci di risolvere le problematiche dei cittadini quando non si ha conoscenza neanche del territorio e delle situazioni. Io come sindaco di questa città, che ho 990 circa cittadini ultraottantenni, non so in questo momento chi è stato vaccinato e chi non è stato vaccinato. Non so i cittadini che hanno la difficoltà di raggiungere il centro vaccinale di Siderno, se qualcuno li ha accompagnati o meno. Sono cittadini che non sanno nulla, sono cittadini che sono andati volontariamente e sono fatti il vaccino, sono cittadini che aspettano di essere chiamati. C'è disorganizzazione e non si può morire per disorganizzazione perché il Covid avanza, è una città che ha pagato un prezzo altissimo, che abbiamo avuto 11 morti qui a Locri, che forse con un'attenzione diversa, un'organizzazione diversa, e forse avremmo risparmiato qualche vita umana, forse anche con un'organizzazione, con il centro Covid, che dovrebbe essere fatto qui a Locri come prima necessità e quindi anche un'ecografia, un'ATAC, un centro attrezzato che dovrebbe essere appunto negli uffici amministrativi, che è stato anche lì annunciato in pompa magna da parte della regione Calabria, da parte dell'ASP, e poi non è stato fatto nulla. Forse avremmo evitato qualche morto anche su questo territorio.